chiedete di lasciare mi piace in maniera creativa ragazzi se questo video raggiunge 1500 mi piace il divino che è qui di fronte a me intervisterà Chiogre, Groudon e Rayquard in un'intervista in triplo e quando ci sono loro tre di mezzo sapete che casino viene fuori quindi lasciatelo mi piace signori a 1800 mi piace intervista doppia tra Ash e Red e lì sì che si vedrà chi è il migliore tra i due lasciatelo mi piace che a 1800 like scoppia l'inferno sono il divino la divinità di questo canale per ottenere la mia benevolenza premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento lascia un commento con scritto hashtag torre campana inoltre passate da instagram per i contenuti sacri di questo canale buona visione nome Lugia dove vivi? alle isole vorticose purtroppo aggiungerei boh in giro per il mondo ogni tanto torno alla torre campana ma di base io non vivo da nessuna parte sono un vagabondo di che tipo sei? lasciamo perdere sto discorso per piacere sono di tipo volante fuoco dai Lugia per piacere non fare difficile sono di tipo volante psico raccontaci un episodio divertente della tua vita un episodio divertente della mia vita? abito in una caverna da 150 anni che cosa può essermi successo di divertente? mi è bruciata la casa è la cosa più divertente che mi viene in mente una volta ho sentito il suono di una campana e sono corso giù pensando che mi avessero chiamato invece era il citofono del vicino già descrivi l'altro con una parola Gesù la mia parola è Gesù perché è una fenice fa risorgere le persone e risorge lui Gesù direi incoerente come fai a essere il re dei mari e non essere di tipo acqua? dai Lugia il migliore tra voi due? beh io ovviamente beh penso di essere io senza alcuna ombra di dubbio c'è nel senso vi piacerebbe un remake della vostra generazione? eh no che palle ma sempre in mezzo ma lasciatemi in pace basta non ne posso più io poi la gente mi piglia sempre per il culo quando arrivano qua perché hanno solo di tipo acqua e basta lasciatemi in pace no vi prego basta cioè io non ce la faccio più a prendere e a scendere dai cieli ogni volta che suonate una cazzo di campana cioè non posso andare avanti così nella mia vita basta remake lasciatemi in pace sulla mia torre che già mi sono fatto i chilometri per andare in quegli ultramarchi in ultra solo e ultraluna almeno per la prossima gen voglio stare in pace da solo proprio ahimai fumato sigarette no però in compenso ho fatto fumare una casa non so se vale comunque come risposta positiva no non posso fumare i miei polmoni non possono reggere altrimenti devo volare in giro non posso fumare cioè veramente sarebbe sarebbe veramente ipocrita da parte mia poi sono una fenice cioè nel senso l'animale più puro del mondo no bevuto alcol no non ho mai bevuto alcol però in compenso ogni volta in questa grotta sotto questa cascata io mi faccio le drincate che manco all'oktoberfest di acqua marina pensa che schifo no come le sigarette io alcol zero a stemio completamente devo viaggiare non posso fare certe cose perso qualcosa di importante per strada non fosse mai successo quell'ala d'argento ogni volta che ne perdo una arriva qualcuno che mi dice ciao lugia ti ho evocato con l'ala no non deve funzionare così cavolo si l'ala diride cioè come se poi io fossi obbligato a scendere perché c'hai una mia piuma non è che ce ne ho 400 non è che mi serve non devo riprenderla ma tienitela pure l'ala diride cavolo odiato a morde qualcuno io ho un odio intrinseco verso le kimono girl non so vengono a disturbarmi mentre sto dormendo per farmi vedere il pirla di turno che ha trovato le mie piume non le reggo si si le kimono girl sono insopportabili cioè vengono qui suonano le loro campagne fanno le loro danze e non pagano nemmeno l'affitto tra l'altro mettiamo pure questo piccolo tassello è perché è vero pensato di fuggire di casa allora dillo che vuoi veramente che io bestemmi non è che ci ho pensato a fuggire di casa ha preso fuoco e chiaramente per non morire sono dovuto scappare anch'io per piacere basta infierire su questa cosa dopo che la casa del mio vicino è bruciato ho avuto paura e sono fuggito anch'io sono andato un po' in giro a cercare allenatori dal cuore puro perché non c'avevo niente da fare sostanzialmente cosa invidi maggiormente dell'altro? il fatto che abbia una combinazione di tipi decenti e non come me che invece c'ho tipi a tazzo la tranquillità della sua caverna io sono costretto a viaggiare di qua di là sono sempre in giro invece lui esce alla sua caverna al fresco poi d'estate quando non c'abbiamo niente da fare andiamo lì facciamo le cenette però vorrei tanto avercela quella taverna prestamene un po' Lugia raccontateci una freddura un uomo cade si rialza e dice oh oh eh non posso raccontare una freddura sono di tipo fuoco sono caldo ok uccidete hai conosciuto l'allenatore gold? se si cosa ne pensi di lui? ma è uno dei tanti che è venuto da me con un'ala d'argento si ok mi sono fatto catturare c'aveva la masterball cosa vuoi farci? sono fatti i giri per le regioni però in realtà non è che mi stia così simpatico è uno di quegli allenatori dal cuore puro che ho trovato nel mio viaggio e devo dire che mi ha sorpreso il ragazzo è riuscito addirittura a battere red incredibile a proposito di red chi è meglio secondo voi tra ash e rosso? ma allora c'è da dire che io ash l'ho conosciuto sul set di un film ma è sempre un allenatore molto in gamba a differenza di rosso che sta a congelare su una montagna quindi io intuito e direi ash ma ash l'ho conosciuto al primo episodio dell'anime passandogli sopra la testa e siccome stavo cercando un allenatore dal cuore puro mi sono subito levato dai coglioni poi vabbè ok ho perso una piuma e gli è caduta in testa questo qua adesso si monta la testa perché crede di essere l'allenatore dal cuore puro in realtà è solo un deficiente cioè viva rosso tutta la vita che l'ho incontrato sul monte argento ma ha quasi aperto il culo a suon di tuono shock neanche di tuono oh oh parlaci di un mistero irrisolto chi sono Entei Raikou e Suikun? ah non chiederlo a me io sono tornato indietro ho visto sti tre pokemon che praticamente erano diventati dei pezzi di cenere neanche mi sono chiesto chi fosse ho detto già ripiglia vita e sono nati quei tre pokemon lì ma io non so effettivamente chi siano so solo che boh gli ho ridato la vita io non so nemmeno bene come in realtà ma quindi sei il capo del loro trio? diciamo di sì anche se in realtà nessuno ha mai detto che io sia il capo di quel trio però siccome ho dato loro la vita direi che posso essere considerato il loro capo ma non li vedo da 400 anni per intenderci Lugia ma in realtà questa informazione qua è abbastanza vaga diciamo che ci ho fatto un film assieme e poi la gente ha pensato bene di associarmi a loro pensate che c'era qualcuno che all'inizio credeva che io fossi una fusione tra loro tre fuori di testa però boh sì penso di essere considerabile anche in questo caso una sorta di capo del loro trio anche se in realtà cioè viviamo in due regioni diverse però boh sì diciamo di sì dai la bombi o la passi? Chiara oddio che odio lei e il suo Milton che infame pure da me una volta è venuta quella mi ha veramente rotto le palle dall'inizio alla fine no la passo ma la passo sulle strisce pedonali due volte con la macchina in questo senso sì la passo assolutamente la passo in rassegna la troia voglia se la passo in rassegna Jasmine eh questo è pure vicino a me questa la bombo tutta la vita Jasmine è veramente un gran pezzo di donna ma Jasmine troppo dura per i miei gusti la passo Sandra mi state tentando passo passo sì no mi fa paura quella donna bombo assolutamente Sandra si bomba dall'inizio alla fine non ce n'è le kimono girl passo proprio oltre in un'altra galassia in un altro universo in un altro piano dimensionale non le voglio neanche vedere guarda no passo passo e fanno troppo casino poi ballano poi sono tutte uguali che cavolo se ne devo beccare una poi non le riconosco più questa puraccia Lugia ascolta lo so che questo è un tasto dolente ma ci spieghi il perché del tuo tipo? eh ok va bene lo spiegherò in realtà io sono di tipo psico perché essendo il guardiano dei mari sono associato alla luna come il mio nome Lugia lascia intendere di conseguenza mi è stato dato tipo psico inoltre se avessi avuto il tipo acqua sarei stato troppo avvantaggiato nei confronti di oh oh di conseguenza hanno pensato che darmi il tipo psico sarebbe stato un giusto compromesso in realtà ha creato un meme della madonna attorno a me e adesso la gente mi bullizza quindi game freak vai pure affanculo però di base questa è la spiegazione del mio tipo oh oh senti un attimo ma cosa cazzo ci facevi nel primo episodio dell'anima? in parte l'ho già spiegato io viaggiavo in giro per cercare cuori puri perché la mia vita faceva schifo da quando Lugia se n'è andato e niente sono passato di lì per sbaglio le telecamere mi hanno preso la gente pensa che chissà cosa simbolismo in realtà ero lì sono passato mi hanno preso va bene nel senso c'avevo niente da fare voi due siete l'unica controparte di leggendari che non si è menata nell'anime siete considerabili amici? in realtà si siamo assolutamente considerabili amici andiamo molto d'accordo e ci abbiamo anche sofferto quando abbiamo dovuto separarci per colpa di quell'incendio ma io vado sicuramente d'accordo con Oh Oh e siamo degli amici abbastanza stretti non ci vediamo da molto tempo ma questa intervista ci ha dato l'opportunità di rivederci quindi grazie divino con Lugia abbiamo un rapporto abbastanza stretto anche se purtroppo per varie motivazioni non ci vediamo molto spesso ma la nostra amicizia è sicuramente un'amicizia che si è perpetrata negli anni tipo dall'inizio della vita visto che siamo immortali e bene possiamo concludere salutate il pubblico ciao a tutti ragazzi e ragazze spero che scegliate argento perché io mi sto rompendo le palle qua nella caverna quindi se qualcuno adesso mi viene a trovare che sono più o meno dieci anni che nessuno mi viene a fare una visita mi fareste un piacere prima venivano tutti adesso non c'è nessuno qualcuno potrebbe anche venire a fare una cena da me comunque lasciate un mi piace mi raccomando comprate pokemon argento iscrivetevi al canale bella ciao a tutti ragazzi mi raccomando basta suonare citofoni che altrimenti io vengo sempre giù e mi trollate vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento ovviamente facendomi sapere se preferite me a Lugia e nel caso non preferiate me preparatevi perché vi brucio sul posto non ti sembra di esagerare un pochino oh oh shhh senti senti il rumore della carbonella shhh